Buonasera a tutte e tutti e benvenute a questo dibattito che forse è uno dei momenti più importanti di questo climate camp. Ovviamente tutte le discussioni, workshop, i dibattiti che ci hanno preceduto sono state le discussioni fondamentali per arricchire sia il nostro patrimonio teorico, confrontarci rispetto alle pratiche che portiamo avanti nei nostri territori dislocati in giro per l'Italia e per l'Europa e per il mondo, pensando al dibattito sulla carovana in Messico, ma come ben sapete il Venice Climate Camp di quest'anno già guarda al prossimo e guarda al prossimo in un contesto geografico che può apparire profondamente diverso rispetto a quello della laguna, quello che abbiamo conosciuto dal 2019 in poi per chi con noi ci segue nella costruzione di questi campeggi climatici che sono stati indubbiamente un momento non soltanto di arricchimento ma proprio di cambiamento profondo per la nostra lotta territoriale, per le connessioni intranazionali che abbiamo costituito. Appunto le Olimpiadi Milano Cortina, stasera parliamo di questo, le Olimpiadi Milano Cortina 2026, parliamo di questo perché l'obiettivo, l'ambizione poi probabilmente, anzi sicuramente l'approfondiremo anche domani all'interno dell'Assemblea che ricordo essere alle 10, è quella di costruire un fronte ampio che si opponga a questo grande evento che richiama un modello che molti di noi conoscono bene, quello della grande opera però i nostri relatori e la nostra relatrice poi ci aiuteranno ad addentrarci in questa cosa. Dove si svolgono le Olimpiadi Milano Cortina? si svolgono tra due contesti che ripeto appaiono profondamente diversi, una città Milano, una metropoli e l'arco alpino, si chiama Cortina però poi sappiamo che tante delle gare sono in Trentino e nelle valli Lombarde. Quindi ci parla di montagna e la montagna per chi è veneto sicuramente significa anche vaia, la tempesta che nel 2018 a 200 km orari ha raso al suolo abbattuto 42 milioni di alberi. però un evento come vaia ci parla anche degli altri eventi climatici estremi che hanno colpito i nostri territori, basti pensare alle acque alte eccezionali di Venezia ma torniamo a qualche anno fa, le trombe d'aria che hanno colpito la riviera del Brenta e così l'alluvione di Bologna e così moltissimi altri eventi che vengono definiti estremi ma che sappiamo essere sempre più comuni e le Olimpiadi vogliono innestarsi proprio in questo contesto, un contesto come quello dell'arco alpino che è storicamente sintesi in qualche modo del rapporto tra umano e non umano, tra natura e cultura, un rapporto che è sempre stato un rapporto anche conflittuale ma che in questo momento prevede il fatto che ci sia soltanto una voce che si alza, quella dell'uomo, non viene ascoltata la necessità dell'ambiente naturale e il nostro obiettivo è proprio quello anche di dare voce invece alle necessità di quell'ambiente con cui dobbiamo creare una relazione simbiotica perché le montagne sono in qualche modo la nostra Amazzonia, il nostro polmone verde e sono un serbatoio di biodiversità, di natura, di cultura e pensare di costruire nuove infrastrutture, nuovo consumo di suolo in un ambiente fragile è proprio ciò che si inserisce perfettamente all'interno del solco dell'imperativo della crescita. Nel dibattito di ieri sera ma anche in altre discussioni emerge il concetto di decrescita che ovviamente non andremo ad approfondire questa sera però questo spazio dimostra come il diktat della crescita non sia assolutamente la prospettiva, anzi sia il nemico da combattere perché il diktat della crescita è proprio il linguaggio del capitale. E ecco qualcuno potrebbe dire ecco i soliti che si oppongono, che dicono no, l'ennesimo no a qualcosa che potenzialmente potrebbe essere positivo per il territorio, andremo a vedere questa sera come in realtà sia dal punto di vista ambientale ma anche sociale ed economico tutto ciò non ha alcun tipo di positività, di ritorno vantaggioso per il territorio, né per l'ambiente naturale né per l'umano. e questo no noi dobbiamo ribadirlo con forza, non dobbiamo aver paura, certo che diciamo no ma noi abbiamo un sì da dire, noi abbiamo delle cose da dire, noi abbiamo un percorso, un discorso che stiamo costruendo intorno alla possibilità di costruire un altro mondo partendo da un'ecologia radicata dal basso. quindi sì il nostro è un no ma per arrivare alla realizzazione vera di un cambiamento radicale che dal nostro punto di vista non ha possibilità di essere sviluppato dall'alto ma deve per forza venire dalle forze che quotidianamente le realtà di movimento ma anche le associazioni, i contadini in lotta che si oppongono alle monoculture e molto altro ancora da questa intelligenza collettiva nel rapporto diretto con la natura deve venire la vera forza che vada a costruire un mondo nuovo. però ora io sarò zitta perché dobbiamo dare spazio ai nostri ospiti e farò ecco un piccolo inquadramento rispetto alla prima parte di interventi. Abbiamo con noi Luca Trada di Off Topic che ci aiuterà a disegnare, a inquadrare quelle che sono le caratteristiche dei giochi olimpici, dei giochi olimpici invernali ma che poi in realtà si ritrovano anche ovviamente nei giochi olimpici estivi che sono proprie dei grandi eventi e in generale delle grandi opere, delle grandi infrastrutture in questo paese ma non solo. Interverrà dopo Luigi Casanova, presidente e onorario di Montel Wilderness che farà una sorta di decostruzione del dossier di candidatura per l'Olimpia di Milano Cortina andando a vedere quelli che sono stati anche i cambiamenti apportati da parte delle amministrazioni e dello Stato facendo poi un esempio specifico che forse è quello più famoso la pista da Bob di Cortina, quella che sta diventando l'esempio massimo dello scempio di queste Olimpiadi. Per finire a Letizia Molinari di Saccage, collettivo francese che si sta battendo contro le Olimpiadi del 2024 a Parigi e che ci racconterà quanto in un contesto urbano, metropolitano come quello di Parigi le Olimpiadi siano un problema sul piano sociale come sul piano ambientale.